Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto targato Sketch compatibile con iPhone 4 4S vista appunto l'identica forma esterna che possiedono questo paio di terminali Apple, nello specifico parliamo di Custom Jacket Flip, parliamo quindi di una custodia, nello specifico è interamente nera con un paio di fantasia rilievo, sono facilmente visibili già dalla posizione che assume la protezione in questione, vediamo comunque di enfatizzarvele al meglio utilizzando il riflesso della luce, come potete apprezzare quindi avete una banda liscia e una zona che richiama il tessuto. Come vedete abbiamo una protezione che va quindi a racchiudere interamente il telefono, come vedete la clip va a coprire al meglio il telefono coprendo quindi gli angoli, lasciando l'accesso al tasto slip, tasto power, la possibilità di utilizzare le vostre cuffie e sul fianco la possibilità di avere accesso alla zona tasti e mute. Il fatto di avere una custodia interamente protettiva come in questo caso, vedete è comunque facilmente gestibile senza problemi con una mano sola nel momento in cui io decido per esempio di procedere al suo blocco sblocco, vedete come la possibilità di andare a incastrarsi perfettamente sul melafonino, diventa utile per permettere appunto a questa custodia sketch di agganciarsi al telefono in maniera salda. Ovviamente può essere poi utilizzata in diversi contesti, può tranquillamente essere utilizzata nelle tasche di jeans o può essere tranquillamente gestita per esempio nel vostro borsello, nella vostra borsa per l'università, la scuola quindi diventa assolutamente gestibile, non ci sono particolari controindicazioni, la trovate sul sito di American Data Line, vi daremo poi le info specifiche a riguardo, ad ogni modo la cover come potete apprezzare è semplice, pulita, non ci sono particolari difetti, disalineamenti, non ci sono sbaffi per esempio nell'assemblare l'unità in questione, come vedete vediamo di zoomare così da farvi cogliere appunto la finitura d'insieme, come potete apprezzare non ci sono difetti evidenti. Nella parte posteriore abbiamo la scritta sketch in bella evidenza, sulla continuazione della banda che troviamo poi caratterizzante anche della parte anteriore e foro ovviamente dedicato alla fotocamera. In questo modo quindi potrete continuare a realizzare le vostre foto, i vostri video, potrete utilizzare le eventuali cuffiette che utilizzate per ascoltare la vostra musica, quindi insomma non ci sono particolari problemi nell'utilizzo appunto delle funzioni avanzate del melafonino. La demo su iPhone termina così, in questo caso è una cover quindi è semplice, non c'è molto da farvi vedere, ottima soluzione quindi ovviamente come sempre noi diamo un giudizio generale sulla qualità, deve garbarvi la forma, il colore, la fantasia, questo è ovvio, ad ogni modo l'azienda in questione ne ha tante di cover a disposizione, quindi possono esserci poi anche fantasie magari a voi più gradite. Il video termina così, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino. Grazie a tutti.